Cogollo del Cengio. Un uomo di 55 anni di due ville è stato trovato morto da una squadra del soccorso alpino alla base di una parete di roccia del monte Cengio. A lanciare l'allarme al 118 ieri nel tardo pomeriggio la moglie, che non aveva visto il coniuge, fare rientro a casa dopo l'escursione. Immediatamente è scattata la ricerca delle squadre del soccorso alpino di Arsiero che con i vigili del fuoco verso l'una hanno rintracciato l'auto dello scomparso parcheggiata nei pressi del rifugio al Granatiere sul monte Cengio. Fondamentale è la localizzazione telematica del cellulare del 55enne. Quattro squadre di soccorritori si sono organizzate a perlustrare l'area così circoscritta. Verso le 3 e 30 sono stati rinvenuti alcuni effetti personali che hanno poi ricondotto i volontari a trovare il corpo senza vita dell'uomo. Solo verso le 6 il cadavere è stato imbarellato e affidato ai servizi funebri dopo aver ottenuto nulla ossa dal magistrato a rimuoverlo.